Michele Brocchini, il paese dei balocchi non si ferma nel mese di agosto ma continua la sua attività durante tutto l'anno e per il mese di dicembre ci ha preparato una bella sorpresa, di che cosa si tratta? Sì, una bella sorpresa per la città ma anche per noi che la organizziamo portiamo Frida Bollani-Magoni che è una musicista, cantante, piano e voce, bravissima, 19enne figlia d'arte chiaramente di Stefano Bollani e di Pietro Magoni e veramente per noi è una grande soddisfazione, per noi e le altre associazioni che hanno organizzato con noi questo evento l'associazione Tra le Note e anche chiaramente la fondazione Teatro poi a noi diciamo che abbiamo organizzato, dobbiamo ringraziare anche l'amministrazione l'associazione al turismo e alla cultura, il centro studi Diego Fabri di Forlì che è il contatto con cui abbiamo portato questa giovane cantante ed anche il Rotary Club di Fano quindi insomma siamo molto contenti perché sarà un bello spettacolo di questa ragazza che ha avuto due maestre d'eccezione però sicuramente è una ragazza che ha dovuto diciamo, essendo nata cieca ha questo orecchio assoluto che l'ha portata ad essere così brava quindi insomma è anche un'esperienza interessante per chi viene a teatro oltre a assistere a un bel concerto capire come a volte anche le difficoltà possono essere superate con l'impegno e la passione E quando sarà questo appuntamento? Il concerto sarà il 13 dicembre alle ore 21 al Teatro della Fortuna i biglietti sono già in vendita al botteghino del teatro con le stesse modalità e anche di scontistica che c'è solitamente per le spettacoli e quindi vi aspettiamo tutti perché è veramente un concerto molto bello che vi preparerà al Natale Il concerto della Fortuna